Allora ci voglio fare la stessa c'è due siti social, TikTok è il primo posto che non potrei vivere senza TikTok. Be Real non so che cosa sia, lo metto a decina posto. Snapchat non ho mai utilizzato, mai lo utilizzerò, quindi non lo posso fare. Facebook lo utilizzava perché era il primo social che uscì, quindi non lo so più perché è un social. Da vecchi, quindi facciamo ottavo posto. Whatsapp secondo posto. Instagram terzo. Pinterest non so che cosa sia, quindi settimo. Pinterest quattro. Come si chiama? Twitch? Si, Twitch non ho. Siamo a Twitch. No, c'è non l'ho mai utilizzato. Cioè, no. Non si chiama a Twitch. Si, Twitch ci si chiama, non l'ho mai utilizzato, quindi settimo. Sesto. E YouTube quinto. Ciao, ciao.